Bentornati su MyFootballGersey. Continuiamo a vedere maglie elettro splendide. Questa è la maglia del Chelsea, la prima maglia della stagione 2011-2012 di Didier Drogba. Grazie per la visione! A me piacciono tutte, quindi non so, colpa mia. Comunque questa nella mia classifica prende 5 stelle. Bellissima, bellissima, lucido, questa banda, la rifinitura in bianco. Una delle maglie del Chelsea che preferisco. Il costo lo vedete qui sopra, che per questa maglia, per questo pezzo di storia è assolutamente bassissimo. Vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. E' 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 una taglia media della versione Fan.